Qui a Montesilvano, Porto Allegro, 2.0, chi arriva? Chi arriva? No, 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 chi arriva? A Porto Allegro, 2.0, e entra Lamborghini! E' questo! E' l'aspetto di Montesilvano! Lo so che avete! ...che ha bypassato il pericolo coronavirus? Sì, per fortuna la voglia di stare insieme e comunque di condividere un momento così importante, è stata più forte di qualunque tipo di paura o di dubbio, quindi la volontà di incontrarsi, di passare momenti intensi e felici, è stata superiore alla paura sicuramente. In questo momento ci sembrava una delle persone più fresche e solare del palco scenico della scena italiana, quindi abbiamo ritenuto una delle persone che ci potesse rappresentare, essendo il nostro nome Porto Allegro. Lei sicuramente è allegra, spenserata, come noi, e quindi ci piaceva in questo momento fare un evento del genere. Quali sono i prossimi eventi di Porto Allegro? L'Allegro organizza eventi tutti i fini di settimana, legati comunque alla famiglia, anche comunque eventi come questo di oggi. A brevissimo sicuramente avrete novità in merito.